amici border rights ben trovati oggi vogliamo tornare a parlare di quello che accade attorno alla tematica dell'elettrosmog ma non solo elettrosmog perché come chissà anche chi segue le trasmissioni che mandiamo anche su questo canale di maurizio martucci è un tema poi interconnesso non solo alla nostra salute ma anche alla nostra libertà basta guardare cosa sta accadendo a venezia è proprio il tema anche della sorveglianza di massa è stato affrontato nella tecnogabbia questa trasmissione che il martedì sera noi mandiamo e della quale ringraziamo ovviamente morizio martucci ciao morizio ciao fabio un saluto a tutti gli spettatori di border knights ciao ben ritrovato allora morizio perché molti potrebbero pensare no vabbè l'elettrosmog magari sono pochi a cui da fastidio no quindi a me che me ne frega no potrebbe essere il pensiero di molti invece è un tema come stiamo vedendo perché a volte a gridare al lupo al lupo poi il lupo a volte arriva anche e si può dire che a venezia è arrivato perché lì proprio sembra quasi una città pilota non a caso è la prima città dove si deve pagare un contributo per entrare dove ci dicono anche chi abita eh c'è arrivata giusto ieri una mail chi abita nella eh città metropolitana di venezia non paga però deve annunciare praticamente la la sua visita e può essere comunque fermato controllato e quindi è assurdo per uno che abita è assurdo in generale ma per uno pure che abita lì eh e lì c'è questa mega smart control room questo grande fratello ci sono state tante proteste eh per il momento il sindaco Brugnaro va avanti per la sua strada ecco quello che capita a Venezia può capitare poi anche in altre città ecco che quindi ci tornano in mente alcuni temi che tu hai sollevato delle tue trasmissioni sì è assolutamente così io ritengo che ci siano degli esperimenti che vanno avanti a macchia di lupardo un po' in tutta Italia Roma ZTL allargata città dei quindici minuti Bologna e trenta chilometri orari la smart city di Trento e poi arriva Venezia con questo pedaggio insomma i cinque euro che vengono pagati per il turista ma anche per il visitatore di un di un cittadino veneziano ma poi soprattutto quello che è stato costruito intorno alla laguna ovvero sia attraverso la smart control room come ricordavi tu prima quindi questi grandi occhi sorveglianti il grande fratello ruveliano tutto gestito da remoto eh sostanzialmente significa tracciare essere tracciati monitorati e soprattutto perdere quella libertà di spostamento quella libertà insomma costituzionale che fa riferimento a ai nostri diritti significa che la tecnogabbia significa che la repubblica dei gigabyte significa che la transizione digitale sta avanzando e il punto notale a mio avviso è comprendere come nelle singole città si stia sperimentando un pezzettino alla volta che poi qualora dovesse passare pensiamo ad esempio al contributo di Venezia dove lo smartphone diventa praticamente eh la carta verde lascia passare esattamente come il green pass non era stato sotto l'emergenza eh sanitaria del duemila e venti allora a quel punto ci si rende conto che la tecnologia non è più a servizio utilizzo consumo del cittadino utente consumatore ma è semplicemente lo strumento di controllo del capitalismo digitale lo strumento eh diciamo di di sorveglianza permanente che eh si rende protagonista non è più neutro non è più passivo ma diventa soggetto attivo nella gestione dei nostri diritti e delle nostre libertà siamo praticamente ad un passo dalla consacrazione di quel sistema tipicamente alla cinese che lo stanno replicando il sansa occidentale noi in Italia siamo gli apripista questo va sottroniato in attesa ovviamente che arrivi il riconoscimento facciale e la piena completezza dell'identità digitale questi sono i temi come giustamente caro Fabio ricordavi che a più riprese ho declinato e denunciato nella tecnogabbia che border nights trasmette e proprio la digitalizzazione è eh non a caso forse il settore dove più sta spingendo questo governo ecco Maurizio ci sono delle novità con la nuova legge sull'elettrosmog che cosa sta per cambiare eh siamo praticamente a ridosso a pochi giorni da un vero e proprio tsunami elettromagnetico che è destinato ad abbattersi su ognuno di noi tu giustamente ricordavi prima dici magari c'è soltanto una fetta marginale della popolazione che ha queste problematiche rispetto all'inquinamento elettromagnetico in realtà non è così proprio perché degli studi otto sono ben otto io l'ho ricordati su Asisana studi scientifici in vivo casi di controllo su persone precedentemente sane alle quali è stata installata un'antenna 5G in prossimità della loro abitazione o posto lavorativo si sono ammalate sono state costrette a eh cambiare zona a cambiare casa a cambiare abitazione semplicemente per il fatto che una volta installata quell'antenna continua di raggiare H24 quelle frequenze e quel tipo di densità ecco proprio rispetto alla densità noi siamo a alla vigilia come dicevo prima di questo grande stravolgimento perché per la prima volta nella storia italiana nella storia della nostra area pubblica l'inquinamento di agenti possibili cancerogeni ovvero sia il wireless viene innalzato viene legalizzato viene normato a più cento volte sono questi picchi previsionali eh rispetto alla media attuale perché questo governo soprattutto il ministro delle imprese e del media di niti Adolfo Urso ha voluto pienamente assecondare i desiderati le richieste delle multinazionali straniere la lobby del 5G e quindi dal 30 di aprile entra in modalità operativa in realtà è stata promulgata il 30 di dicembre scorso la legge la 214 del 30 dicembre 2023 entra in modalità operativa per quale motivo perché va a concludersi l'iter extra parlamentare dei 120 giorni che io lo reputo essere stato una vera e prova presa per i fondelli per quale motivo perché la legge quadro del 2001 la numero 36 prevedeva che qualora in Italia l'elettrosmog venisse cambiato modificato intaccato cosa che è avvenuto con il governo Meloni in 120 giorni si sarebbero dovuti ascoltare i territori si sarebbe dovuto ascoltare il Ciprie che è una commissione interministeriale che per l'esattezza si definisce per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico sono organismi e passaggi previsti per legge dal 2001 che cosa ha fatto il governo Meloni in questi 120 giorni che si concludono il 30 di aprile non ha ascoltato i sindaci non ha ascoltato i territori non ha ascoltato i governatori non ha ascoltato le regioni che si stanno opponendo all'innalzamento dell'elettrosmog voglio ricordare soltanto per fare alcuni casi come la regione Emilia Romagna abbia approvato un atto di impegno per il suo governatore per ritrovarsi nella conferenza unificata nel tavolo di servizio con il governo e chiedere di non innalzare l'elettrosmog lo stesso hanno fatto decine di comuni dal nord al sud alcuni in provincia di Campobasso altri uno zoccolo duro nella provincia di Bolzano a Trento a Genova insomma in Liguria ma ricordiamo che fino al 2020 erano 600 i comuni italiani che avevano approvato atti precauzionali per la prevenzione del danno cercando attraverso una moratoria sensata di bloccare questa che poi in realtà non è una sperimentazione tecnologica ma è una sperimentazione sugli esseri umani quindi si conclude l'iter extra parlamentare dei 120 giorni dove il Ciprie non è stato ascoltato non essendo nonostante essendo l'unico ente deputato per legge a pronunciarsi per la protezione delle radiazioni ondenoionizzanti l'inquinamento elettromagnetico non sono stati ascoltati i territori quindi arriveremo a Dama il prossimo 30 di aprile con questa legge che diventa operativa dove nessuno l'ha voluta se non ovviamente le lobby le multinazionali con la complicità della maggioranza parlamentare soprattutto il ministro Adolfo Urso che veramente si è fatto interprete non della volontà dei territori non della volontà dei cittadini ma bensì dei desiderata delle richieste delle multinazionali che avevano provate a più riprese con tutti gli esecutivi precedenti Gentiloni Renzi Conte Draghi a tutti avevano fatto la stessa richiesta innalzare l'elettrosmog nessuna esecutivo politico nemmeno quelli tecnici si erano assunti questa responsabilità gravissima e quindi dal 30 di aprile prepariamoci a tutto prepariamoci al vero e proprio TSO perché il 5G è il trattamento sanitario obbligatorio dal quale nessuno potrà sfuggire con una piccola postilla che non finisce qui perché questo è l'innalzamento dei limiti soglia di inquinamento elettromagnetico per quanto riguarda le antenne via terra ma sempre questo esecutivo sempre Giorgia Meloni sempre il ministro Urso si stanno mettendo a disposizione per cercare di trovare la quadra tra Team Open Fiber e Starlink attraverso SpaceX che è la multinazione di Elon Musk per i satelliti lanciati in orbita quindi a breve potremmo essere raggiati irradiati di wireless di agenti possibili cancellogeni anche dallo spazio anche da sopra le nostre teste quindi si sta creando questo maxi forno a microonde io andavo denunciando già diversi anni fa purtroppo tutti gli appelli della società civile della comunità medico-scientifica non sono stati raccolti e quindi vedremo che cosa potrà accadere dal 30 aprile in poi ricordiamo siamo tutti cavi umane nessuno escluso a proposito di ipersensibilità vediamo questa testimonianza sono cristina ringrazio l'organizzazione per darmi la possibilità di far conoscere la situazione drammatica insostenibile dei malati di hs ipersensibilità ai campi elettromagnetici detta anche elettrosensibilità di cui soffro anche io va fatta una distinzione tra malati gravi e medio gravi con relazioni mediche che vivono al di fuori dei diritti umani questo perché per disinformazione molti pensano che gli elettrosensibili siano quelle persone che hanno solo lievi disturbi in prossimità di qualche wifi o telefono ma poi fanno una vita normalissima questo porta a sminuire la malattia e a pensare che basti spegnere un telefono usa delle cuffie e tutto è risolto ma non è assolutamente così i malati gravi di hs medio gravi vivono in assenza di libertà molte volte in gabbie schermanti di 2 metri quadrati come questa che vedete nei mie spalle per evitare l'inquennamento elettromagnetico che più delle volte è prodotto dai vicini con emissioni wireless o dagli antenni telefonia mobile vicino a loro queste persone non hanno inclusione sociale non possono lavorare i bambini non possono andare a scuola non hanno vita sociale e molti per uscire devono indossare pesanti vestiti schermanti anche col caldo hanno dolore devastanti ad ogni esposizione è una sindrome immunoneurotossica post esposizione che colpisce tutti gli organi del corpo con gravi conseguenze che li rendono totalmente disabile per colpa di emissioni prodotte da terzi hanno tutte relazioni mediche specifiche e la letturatura scientifica è molta sulla malattia ma ancora queste persone non possono accedere agli ospedali agli ambulatori non possono fare esami come tac o risonanza magnetica che li farebbero solo peggiorare o usare farmaci tradizionali molti hanno la sensibilità chimica multipla che peggiora la loro salute se ci fosse un'emergenza morirebbero come già successo purtroppo questo è gravissimo e non è più accettabile sono anche impovertà ridotti a cosa della malattia per assurdo non potrebbero nemmeno vivere per strada a caso delle molte antenne che ci sono e sono già buttati fuori dalla società il futuro sarà tutto e per connesso dalle auto elettriche che ho messo c'è l'edit wallet connessioni sempre accese che costingerà i malati a morire nel modo peggiore se non ci saranno leggi a loro tutela se non ci sarà disconnessione la cablatura per loro incentivi per le schermature molto costose questo baldacchino ad esempio costa sui 2000 euro ma anche per gli ausili per la loro sopravvivenza posti free elettrosmog ospedali se non sarà così sarà catastrofe per loro e comunque siamo in violazione dei diritti umani il governo ha aumentato i limiti elettromagnetici ma non ha dato nessuna tutela a questi malati di hs voi voi medici potete fare tanto trovare dei marchi per uno conoscimento attivando dei percorsi facendo formazione ascoltando aiutando i malati e non abbandonarli anche le autorità non si possono voltare dall'altra parte e lasciare che una parte di popolazione civile sempre più numerosa al suo destino vanno invece inclusi come disabili al pari di altri disabili con leggi speciali io faccio un appello vi prego aiutateci a non morire è una cosa vergognosa quello che sta succedendo ai malati di hs grazie a tutti insomma una testimonianza molto molto forte allora ma che ci in pochi minuti un innanzitutto ci sono dei comuni che stanno provando a opporsi cosa possono fare perché sappiamo che negli anni il potere dei comuni è stato purtroppo molto annaquato su questa storia delle antenne ma diciamo che i comuni sono stati esautorati sono stati piano piano spogliati dei loro diritti insomma poi alla fine alle amministrazioni comunali non rimane semplicemente che il piano di localizzazione cioè il piano di antenne e il regolamento ma tutto questo ovviamente rimane un po' a sessante la misura in cui il governo dal 30 aprile in poi attraverso la compagnia del parlamento innalza elettrosmog di più cento volte rispetto ad oggi come densità di potenza quindi semplicemente pensare di localizzare meglio l'antenne nella misura in cui la potenza aumenta in maniera vertiginosa lascia il tempo che trova i comuni sono sempre rimasti insieme ai cittadini l'anello debole dell'intera catena ricordavo prima anche una misura in cui si oppongono anche una misura in cui dicono di no anche una misura in cui cercano di tutelare la salute pubblica e la prevenzione del danno attraverso politiche cautelative ricevono eh lo sbarramento mettiamola così da parte del legislatore la legge è tutta a favore della lobby è tutta dalla parte schierata del grande business e della grande programmazione che vede nell'agenda 2030 il punto d'arrivo quindi il sindaco come il cittadino può veramente poco però va sottolineato questo aspetto è una battaglia politica questo non significa eh mettere l'emimbarca a rendersi che la partita è finita siamo soltanto all'inizio io sono profondamente convinto che dal 30 di aprile in poi ne vedremo delle belle o meglio potremmo dire ne vedremo delle brutte perché le ripercussioni saranno importanti e quindi a livello politico si dovrà assolutamente intervenire partendo dai territori dalle regioni e ovviamente per arrivare al Parlamento e allora eh lanci Maurizio questo appuntamento abbiamo aderito anche come Border Knights insieme a tanti altri canali di movimenti amici di Sconnessi Day che torna anche quest'anno giornata nazionale di sciopero digitale martedì prossimo in concomitanza proprio con l'entrata in vigore della legge nazionale che aumenta fino a picchi di cento volte la densità di potenza dell'elettrosmog spegniamo cellulari smartphone wifi tutto ciò che è digitale eh ecco è un segnale questo che che magari se questo queste sono le iniziative effettivamente che hanno che possono avere un impatto rispetto insomma onestamente a tante altre che lasciano il tempo che trovano eh anche perché questa disconnessione se fatta veramente da tante persone verrebbe comunque rilevata cioè non non passerebbe inosservata bravissimo Fabio hai centrato il punto e il cuore del problema è proprio questo li vogliamo fermare allora fermiamoci se noi ci fermiamo non alimentiamo più attraverso la linfa vitale questo grande leviatano due punto zero è semplicissima la manovra abbiamo fatto per anni e anni manifestazioni sit in proteste raccolte firme sciopero della fame ne abbiamo tentate di tutto e di più però ci siamo resi conto che poi alla fine il tutto porta a zero allora è rimasta semplicemente questa azione straordinariamente virtuosa e qualora messa insieme e messa in moto potrebbe generare eh veramente all'effetto virale eh il ribaltamento della questione perché si è sempre detto noi siamo il novantanove per cento loro sono l'uno virgola l'uno per cento ecco benissimo se attraverso la disconnessione noi facciamo un passo indietro usciamo dalla tecnogabbia automaticamente tutto quel meccanismo messo in piedi soprattutto partendo dall'inquinamento elettromagnetico potrebbe cadere quindi si rivelebbe questo gigante dai piedi d'argilla quindi disconnessi dei martedì trenta aprile spegniamo tutto quello che è digitale facciamo un'opera un'azione di sciopero digitale per contestare nella manovra del governo Meloni Adolfo Urso Salvo Pogliese insomma tutti quanti parlamentari che si sono resi protagonisti di questo scempio di questo attacco alla sanità pubblica che poi ovviamente abbiamo ricordato è la pripista per entrare nella tecnogabbia noi cerchiamo di uscire dalla tecnogabbia facendo una giornata intera di sciopero digitale può essere solo l'inizio 50 sigle hanno aderito poi mettendo in moto il meccanismo riusciremo ovviamente a far sentire la nostra voce poi come ricordavi il tutto può essere monitorato quindi può avere un peso anche da un punto di vista di business e sappiamo perfettamente come le ripercussioni finanziarie soprattutto economiche abbiano una rilevanza nelle grandi industrie disconnessi dei trenta aprile e allora Maurizio grazie davvero ti aspettiamo ancora con la tecnogabbia invitiamo chi non ha visto le puntate a vederle sono sul canale e anche su altri canali amici che salutiamo e ringraziamo sempre per la sensibilità verso queste tematiche Maurizio grazie e a presto grazie a te caro Fabio un abbraccio e un saldo a tutti gli amici di Border Knights grazie a te cari 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 a te car